Facciamo una bella pasta alla norma, ragazzi miei Iniziamo subito così Pasta, ho scelto dei rigatoni poi basilico pomodoro cipollotto, questa è una mia aggiuntina aglio, quello buono del mio amico Domenico che mi ha regalato, del papà di Domenico melanzane cacio ricotta e olio extravergine buono Iniziamo subito con che cosa? Con queste, le melanzane allora il taglio eh, voi qua andiamo a litigare come le vogliamo tagliare? L'ho vista in tutti i modi a dadini, a fette con la buccia, senza io faccio come pare a casa mia io le faccio in questa maniera, guardate a dadini un po' grossolani che si devono sentire in bocca, capito? Non troppo piccoli va bene così, con tutta la buccia mettiamo le melanzane prima dentro qui a uno scolapasta mettiamo un po' di sale lasciamo perdere un po' di amaro e un po' anche di liquido, di acqua quindi, quanto tempo le lasciamo qui? tempo di fare la salsa la salsa buona, col pomodoro che adesso c'è in questo momento quindi, usiamo il pomodoro fresco che faccio? Taglio così, grossolamente a metà così, va bene? guardate il colore del pomodoro rosso, maturo la pasta norma è siciliana dicono che sia di Catania quindi, devo usare l'olio siciliano i fratelli di Icari poi, cipolla io aggiungo la cipolla nelle ricette classiche non la metto, non la menziono mettono soltanto l'aglio io ci metto il cipollotto che mi dà un po' di dolcezza che c'è Mario? ancora non è pronta la pasta? un attimo, aspetta un pochetto, aspetta aspetta lo so, ancora non è pronta, un attimo tieni i fagioli per questo passerotto dai due spicchietti d'aglio belli, piccolini roba genuina, roba buona signora mia poi accendiamo l'induzione e facciamo diventare dorato questo aglio dorato, partendo da freddo mi raccomando sempre l'olio partiamo da freddo con gli aromi aggiungo, come facciamo sempre anche il gambo del basilico, eh ecco qua, perfetto adesso metto il pomodoro ahhh mamma mia profumo schizzi fantastico perché ci vuole l'olio caldo il pomodoro ahhh vai al massimo il cipollotto ecco qua eh, che c'ha more? che vuoi? qua adesso facciamo i schizzi la serò e adesso facciamo un po' gruino ammorbidire il pomodoro così lo possiamo schiacciare ci mettiamo un po' di basilico le foglie che abbiamo staccato così bello profumato vai un pizzico di sale e lasciamo andare il pomodoro è vero, Mario? Cioè, ti hai detto? io adesso lo sto un po' ammorbidendo perché poi dopo che farò? userò un qualcosa ormai di scomparso veramente bello il passaverdure no frullatore perché diventa un colore brutto cambia il colore pomodoro perché frulla i semi rompi i semi invece questo qua ci serve proprio quel colore rosso bello rosso estate rosso pomodoro ci siamo guardate vediamo se è ridotto il pomodoro così è morbido si è ammorbidito si sono staccate le pellicine dalla polpa quindi il nostro attrezzo antico ma fantastico poi tolgo l'aglio uno spicchietto d'aglio senti che musica va a casa Mariola se mangia bene se beva abbastanza bene la musica è buona che volete di più vai guardate il colore è meraviglioso ho scelto il buchetto non troppo piccolo ok così adesso melanzane vedete se so stiamo perdendo acqua guardate Mario vuoi ancora? vieni qua altri fagiolini dai sconditi così però ti piacciono vai allora adesso pentolino con l'olio olio di arachidi lo metto a scaldare assaggiamo la salzietta come è venuta è dolce ragazzi senti un po' camera guardate il colore vai pure adesso già ecco qua vai vieni qua so già un po' Mario com'è? mmm buona eh com'è? vieni qua vieni qua vieni qua metto a friggere i melanzani si devono ben diciamo ammorbidire ho già buttato la pasta nell'acqua salata in piena ebollizione una bella pasta di craniano bella che rimane bella al dente melanzane stanno in cottura guardate vedete vedete rimangono sempre abbastanza bianche però si stanno cuocendo vedete voi come fate come fa questa tocca all'olio bollente guardate sono cotte guardate che belle metto qui facciamo ben asciugare dall'olio in eccesso rimetto la salsa sul fuoco la facciamo riscaldare la pasta è quasi pronta la metto qui bella al dente così proprio si insaporisce con la salsa mettiamo un po' di basilico così con le mani come diceva Roma con le mano vai mamma gli schizzi del tutto una bella grattata di pepe sentiamo se c'è è lui ragazzi avete sentito? è lui non ti vuoi sbagliare è lui allora adesso che faccio io? due proprio due quelle che un po' che ho rotto le melanzane guardate eh ce le metto dentro a me che bontà oh deve stare venendo a fame poi cacio ricotta guardate che bella come è suda ah oh non per mettere niente ci vuole la cacio ricotta spento il fuoco eh allora sentiamo un attimo quanto è salata no è giusta giusta buonissima piatto proprio la scotella la scotella ragazzi basilico e poi guardate qua mamma mia che bello guardate i colori che fanno ragazzi cacio ricotta qualcuno mi ha ripreso non si deve dire dolce che vuol dire è strana come cosa come aggettivo beh io lo ripeto è un dolce è una bontà equilibratissima con sta cacio ricotta stupenda la melanzana questa qui la trovo perfetta eccezionale piatto semplicissimo stagionale fatelo adesso ci sono i pomodori fatelo adesso ci sono queste melanzane trovate la cacio ricotta giusta il basilico buono che ce vuole niente la bontà mmm 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 pasta enorme guardate il colore delle melanzane stupendo guardate la natura che cosa fa sui miei canali social su youtube facebook e instagram ciao mmm 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 mmm